La consigliera di minoranza del comune di Agropoli, Gisella Botticchio, è intervenuta ai nostri microfoni su un argomento sempre più attuale, il commercio in città, che non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti. La Botticchio ha parlato con amarezza delle difficoltà che incontrano ad oggi i commercianti agropolesi, in particolare coloro che hanno un'attività nella zona centrale della città e trova nella ZTL, attiva già da qualche anno, una delle cause di questa difficoltà nel commercio. Inoltre la consigliera chiede ossigeno per i commercianti rimuovendo la ZTL e dando ai vigili urbani il compito di sorvegliare sulla sicurezza della zona in questione. C'è tanta amarezza, c'è tanta amarezza in città, viviamo nella desolazione, nell'abbandono. La piazza, sentire, ascoltare, girare per la piazza e ti dice chi ha un bar, il bar, si compra il gelato, un bar non può mai chiudere e anche il bar sta chiudendo, vuol dire che siamo alla frutta. Io un anno e mezzo fa, quando organizzarono i varchi, diciamo, hanno organizzato, io a mio avviso lo chiamo l'incasso, casso sicuro, io dissi, io raccorsi delle firme in piazza, forse qualcuno allora ha anche dissentito, dice ma no, dico guarda fra un anno, un anno e mezzo vedrete i risultati che saranno pessimi. Qualcuno dice ma quelli poi sono nati i centri commerciali, i centri commerciali non sono nati adesso, quest'anno o due anni fa, già sono dieci anni, quindi noi eravamo abituati. Chi gestisce il bar perché si aspetta il turismo, c'è il turista. Agropoli è una città anche turistica, forse meno commerciale, più turistica, però il turismo fatto bene, curato, andava a filtrare, a foraggiare anche il commercio. Quindi cosa vuol dire? Che alla città mancano i servizi, cioè organizzare i varchi, dice no ma in città se vai a Siena, vai a Firenze, tu trovi varco attivo, varco non attivo. Cara Raffaella, mio figlio ha un negozio in via, Flavio Giovi, la mattina siamo alle prese con i nostri clienti, ma qua c'è scritto varco non attivo, quindi non posso passare, tu devi spiegare continuamente. Quindi l'amministrazione comunale se la poteva risparmiare, perché noi abbiamo la polizia locale che lavora, viene pagata per sorvegliare la città e per lavorare, mettere quei slot machine, perché io così li chiamo, non serviva. Sì, hanno distrutto quel poco di commercio che c'era, perché c'era. Comunque venivano clienti da Santa Maria. Cioè io parlo come consigliere comunale a difesa delle attività, ma parlo anche come persona colpita. Quindi qua stanno più versioni da una persona che da consigliera provo amarezza, provo tristezza. Perché distruggere una città come Agropoli, quando poteva avere i servizi. Sulle tasse che il cittadino paga ci sono anche i servizi e l'ospedale non lo dobbiamo avere. Non lo so, il commercio deve chiudere, il porto è abbandonato. Le ALG dice che Mose sta lavorando su un progetto. Ma se voi non curate i servizi della città e mettete solo le multe, perché le multe sono soldi sicuri, è sbagliata, la politica è sbagliata. Io non aspetto altro le dimissioni da questa amministrazione e l'ho chieste più volte. Non l'ho chieste solo dall'Agropoli Servizi. Si devono dimettere, perché la città va gestita con le proprie risorse della città. Non gestire le persone. Quella persona mi vota e gli tocca. No, non si fa così. Qual è la sua proposta per quanto riguarda il commercio? Allora, proposte, poi quelle nasceranno nel momento che andranno via loro, ma già adesso ho qualche idea. L'idea è quella dell'emergenza. L'emergenza dovrebbe essere immediata. Subito togliere i varchi, mettere i vigili a lavorare e i punti cardini e a fasce orari, dal lunedì al venerdì, aprire immediatamente le strade, dare ossigeno a queste persone che pagano le tasse e che hanno un'attività. Ma questi qua che devono fare? Cioè queste persone che hanno un'attività, domani chiudono. Ma pensano loro che faranno? Il piatto a tavola, come lo dovranno mettere queste persone? Ma scherziamo sulla pelle della gente, su veramente, sull'economia. Questo è solo togliere ossigeno ai commerciali. La scusa loro è internet e i centri commerciali. Internet non è nato oggi e i centri commerciali anche. Quindi le scuse se le tenessero per loro. e i centri commerciali anche. e i centri commerciali anche.